Stanley Drunkenmiller, il famoso investitore americano, scommette contro il dollaro in un momento in cui proprio ieri la Fed ha aumentato i tassi di interesse al più alto livello degli ultimi 16 anni. In questo video facciamo un approfondimento proprio su questo tema. Cercheremo di capire perché alcuni investitori, ma potremmo chiamarli speculatori, stanno scommettendo contro il dollaro, che cosa stanno facendo, quali sono le aspettative che hanno e perché questo ha molto a che fare con il processo di de-dollarificazione di cui abbiamo già parlato su questo canale. Approfondiamo tutto questo e tanto altro in questo video. Iniziamo! Questa è la notizia che sta rimbalzando un po' in tutti i media internazionali in ambito finanziario, cioè il fatto che ci sia qualcuno, ma non qualcuno, Stanley Drunkenmiller, che capiremo è particolarmente famoso per altri short su valute, che ha deciso di shortare il dollaro, quindi in altre parole di scommettere contro il dollaro, quindi in ulteriori altre parole ha deciso di scommettere sulla perdita di valore del dollaro e quindi guadagnerà se davvero si realizzerà una perdita di valore del dollaro rispetto ad altre valute. Capiremo meglio questo tra poco. Un'importante premessa, tu, io, nessuno di coloro che guarda questi contenuti ha competenze paragonabili a Stanley Drunkenmiller, che, come vedremo, è uno degli investitori più profittevoli del mondo. L'obiettivo di questi contenuti è farti capire che cosa succede a livello macro finanziario, perché capiremo qual è la visione di investimento di Stanley Drunkenmiller e perché ha deciso di lanciarsi in questo trade, ma queste sono cose che sono interessanti da approfondire, interessanti da capire, ma che noi dobbiamo guardare con opportuno distacco. La speculazione finanziaria non è il nostro mestiere e, come al solito, un po' di umiltà perché stai guardando questo contenuto su YouTube e, per quanto ti venga spiegato da un analista finanziario che è sui mercati da 15 anni, che è socio fondatore di una società di consulenza finanziaria, questo rimane puro intrattenimento. Quindi, a differenza di quegli YouTuber che non vivono di investimenti, che ti dicono quali sono le tre azioni da comprare e che poi magari tu vai a comprare, vorrei che fossimo tutti d'accordo sul fatto che capiamo che cosa vuole fare, Stanley Drunkenmiller, perché lo vuole fare, ma prendiamo un accordo che nessuno di noi andrà a fare qualcosa di simile e paragonabile. Fatta questa opportuna premessa, due parole sul personaggio, perché parliamo davvero di uno degli investitori macro più profittevoli del mondo che ha lavorato per, rullo di tamburi, George Soros all'interno del Quantum Fund tra il 1988 e il 2000 ed è diventato famoso, assieme a Soros, perché ha fatto fallire la banca d'Inghilterra, la banca centrale inglese, shortando la sterlina nel 1992. Operazione che ha fruttato al fondo un miliardo di dollari in profitti. Parliamo di un investitore in grado di generare un rendimento del 30% composto e costante all'anno. E questi, come al solito, sono rendimenti certificati, perché lavora per un hedge fund che gestisce non so quanti miliardi di dollari, quindi sono rendimenti reali effettivamente avvenuti che hanno fatto crescere del 30% all'anno il patrimonio di tutti gli investitori. Perché faccio questa precisazione? Perché quando parliamo con potenziali clienti per la società di consulenza piano finanziario SCF si parla sempre di rendimenti e ovviamente uno vuole investire, vuole capire i rendimenti magari dei portafogli che mettiamo a disposizione dei nostri iscritti o dei nostri clienti in consulenza. Ma le aspettative di rendimento spesso non stanno né in cielo né in terra. Quando si parla di rendimenti del 30% all'anno, del 20% all'anno, stiamo parlando di rendimenti che hanno generato 50-100 tra gli investitori più profittevoli del mondo. Il 20% all'anno? Sì, lo so, hai trovato un ragazzo di 20 anni trader a Dubai che fa il 30% ogni anno costante, giusto? Ok, go for it. Ma al di fuori di questi personaggi che non esistono nella realtà, gli investitori che fanno oltre il 20% all'anno saranno al mondo qualche centinaio e non si trovano online. Questo è poco ma sicuro. Perché stiamo parlando di un rendimento che è il doppio il rendimento che ha generato ad esempio il mercato azionario americano nel lungo periodo, che magari in altre occasioni mi avrai sentito dire si aggira attorno ad un 10% di rendimento, lordo tasse, lordo inflazione. Questo per farti capire che sì, magari è possibile battere il mercato, c'è chi ci riesce a battere il mercato, ma uno non li trovi online, due sono dei personaggi come Stanley Drunkenmiller che hanno delle competenze, una tenuta psicologica e commettono errori, come vedremo tra poco, che non sono quelle dell'investitore comune. Ok, ma che cosa sta facendo di preciso? Bene, troviamo chiaramente in questo articolo del Financial Times che conferma appunto che Stanley Drunkenmiller ha dichiarato di stare effettuando una scommessa contro il dollaro americano ed è la sua unica operazione di trading, high conviction, cioè ad alto convincimento, cioè l'unica in cui sta credendo particolarmente in questo momento, perché per il resto si rende conto che questo è un momento contraddistinto, per quanto riguarda i mercati azionari ad esempio, da forte incertezza, anzi la più elevata incertezza che ha mai riscontrato nei suoi 45 anni di carriera. Dopo tutto se prendiamo il mercato azionario americano, il mercato è laterale da ormai un anno, non sta andando da nessuna parte, si muove tra i 3.900 e i 4.100 punti e rimbalza all'interno di questo range. E visto che è da un po' che non parliamo di mercati azionari, facci sapere che l'argomento ti interessa scrivendoci cosa succederà ai mercati nel 2023 e faremo un approfondimento proprio su questa fase di mercato in cui i mercati non vanno da nessuna parte. Il dollaro l'anno scorso ha avuto un rally molto importante, cioè è cresciuto di valore, cresciuto rispetto a cosa? Rispetto ad altre valute. Come lo puoi verificare? Ti basta guardare non il cambio euro-dollaro, il cambio dollaro-sterlina, ma il dollaro rispetto a un paniere di altre valute. Questo si può monitorare guardando l'indice US dollar index e come vediamo a partire da gennaio c'è stata una crescita verticale del valore del dollaro rispetto alle altre valute. Questo non c'entra niente col fatto che c'è stata inflazione, quindi il dollaro ha comunque perso valore in termini di potere d'acquisto. Qui stiamo parlando del valore del dollaro rispetto ad altre valute. Il massimo è stato toccato circa a metà di ottobre, poi dopo ha stornato leggermente. Perché è salito il valore del dollaro durante tutto il 2022? Per via dell'aumento veloce e repentino dei tassi di interesse da parte della Fed. Se una banca centrale aumenta i tassi di interesse, questo attrae capitali esteri che comprano ad esempio obbligazioni o treasury americani in dollari, quindi il valore del dollaro sale. E dopo il picco di ottobre dell'anno scorso il dollaro ha già iniziato come abbiamo visto prima a perdere valore, più o meno ha perso un 10% di valore, ma secondo Stanley Drunkenmiller potrebbe esserci un ulteriore crollo. Infatti dice che i trend, cioè gli andamenti delle valute tendono a svilupparsi nel corso di 2-3 anni e questo nuovo trend, cioè di ribasso del valore del dollaro, è iniziato più o meno 6-7 mesi fa. Quindi dice abbiamo ancora molto tempo per poter vedere un riprezzamento al ribasso del dollaro. Una cosa interessante di questo articolo è che in questa intervista lui dichiara di aver perso tutto il rally, cioè tutta la crescita del prezzo del dollaro che c'è stato nel 2022, semplicemente perché non si è affidato delle parole di Jay Powell che avrebbe davvero alzato i tassi di interesse con la velocità con cui li ha alzati. Quindi già interpretando queste parole rendiamoci conto della complessità di questa operazione speculativa, qui non stiamo parlando di investimento, qui stiamo parlando di speculare e anticipare politiche che vengono messe in campo dalla Fed ad esempio. E quindi quando si specula, e se vuoi approfondire studia un po' il lavoro di Ray Dalio che ha un modo di investire simile, è un investitore macro, bene di solito questi investitori fanno tante scommesse, il più possibile non correlate, cioè il cui risultato non sia legato tra le varie scommesse, cioè siano il più possibile indipendenti queste scommesse, perché ci si rende conto, loro se ne rendono conto, che possono sbagliare. Infatti definisce l'aver perso il rally del 2022 come il più grosso errore della sua carriera. Ma quali sono le principali ragioni per cui sta shortando il dollaro, per cui si aspetta una riduzione del valore del dollaro rispetto ad altre valute? Sicuramente c'è il fenomeno della dedollarizzazione, di cui abbiamo già parlato in questo video, se te lo sei perso il link è in descrizione. Proprio qualche giorno fa ad infiammare ormai un dibattito che ci portiamo avanti da un mesetto e mezzo buono. Il presidente brasiliano Lula rilancia il fatto che i paesi BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, dovrebbero crearsi una valuta alternativa per sganciarsi dal dollaro. Di conseguenza se molti scambi commerciali avvengono senza l'utilizzo del dollaro, c'è meno richiesta di dollaro nel mondo. Di conseguenza il valore del dollaro rispetto ad altre valute si abbassa. Questa è una delle ragioni per cui ha avviato questa scommessa, questa speculazione, puntando appunto sul ribasso del valore del dollaro. Ma questa si aggiunge un'altra ragione per cui lui è ribassista sul dollaro. Il fatto che il dollaro appunto ha avuto una crescita incredibile nel 2022 perché la Fed ha aumentato in modo drastico e velocissimo i tassi di interesse. E l'ultimo aumento è di 13 ore fa, sto registrando il 4 di maggio, e con un aumento di 0,25 punti percentuali siamo arrivati ad un tasso tra il 5 e il 5,25%. A marzo 2022 eravamo a zero. Un elemento interessante però che emerge dalle dichiarazioni della Fed è che la Fed ha fatto capire, non l'ha detto direttamente, che potenzialmente non ci saranno altri aumenti dei tassi di interesse. Questo vorrebbe dire l'aver raggiunto una fase in cui i tassi di interesse rimangono flat, cioè non crescono, rimangono costanti per un certo periodo di tempo, fino a quando? Fino a quando secondo te? Fino a quando non si entra in recessione fondamentalmente. Fase in cui una banca centrale per ristimolare l'economia dovrebbe abbassare i tassi di interesse. E se abbassa i tassi di interesse che cosa succede alla valuta? Si svaluta. A maggior ragione se poi ci fossero iniziative come un nuovo quantitative easing, cioè immissione di denaro nel sistema che avrebbe l'ulteriore effetto di ridurre il valore della valuta, il dollaro in questo caso rispetto ad altre valute. Questi sono i due principali elementi alla base della tesi di investimento speculativa di Stanley Drunkenmiller. Ma queste idee hanno un forte elemento di incertezza perché non sta scritto da nessuna parte uno che il processo di dedollarizzazione sia così veloce da avere un impatto così rilevante sulla valuta nel breve medio periodo. Tra parentesi quando commentiamo questi trade, queste azioni speculative non sappiamo quando ha iniziato a speculare, magari è già due mesi che è short e ovviamente non ci verrà a dire il nostro caro Stanley Drunkenmiller quando uscirà dalla posizione. Non ha alcun vincolo, alcun interesse a doverti tenere aggiornato, ok? Questo per ricordarci la premessa di prima, ci interessa capire i meccanismi per capire fenomeni macro che impatti hanno sui mercati finanziari, ma ci limitiamo lì e questo video non deve portare ad alcun tipo di operatività. La seconda cosa che non è assolutamente detto che si realizzi è che la Fed smetta di aumentare i tassi di interesse, ha semplicemente dichiarato che potrebbe aver smesso di aumentare i tassi di interesse e in un politichese tipico dei banchieri centrali ha detto che guarderanno i dati, l'evoluzione dell'inflazione eccetera eccetera eccetera. E l'inflazione è sì rallentata perché dal 9.1% di giugno 2022 praticamente siamo a metà, 5% ma non siamo ancora al 2% che è l'obiettivo della Fed. Quindi in questo momento probabilmente la politica della Fed è aspettare un pochino, vedere se magari aspettando due mesi scendiamo ad un altro 3% e allora potrebbe aver senso evitare di fare un ulteriore aumento dei tassi di interesse perché l'inflazione sarebbe già su una traiettoria per il suo ritorno verso il 2%. Ma chi lo sa se questo si verificherà? Se la prossima rilevazione fosse un 5,5% quindi si fosse interrotto questo trend, questo andamento molto chiaro di riduzione dell'inflazione la Fed dovrebbe agire come? Aumentando i tassi di interesse e quindi potrebbe esserci un ulteriore apprezzamento del dollaro e quindi Stanley Drunkenmiller perderebbe soldi. Stanley Drunkenmiller ha anche fatto commenti relativamente ad una questione che non abbiamo ancora menzionato su questo canale ma che potremo farlo se l'argomento ti interessa e ti dirò qual è il codice per sbloccare questo video tra poco, in particolare relativamente al debito americano, debt ceiling, cioè il fatto che gli Stati Uniti non hanno una situazione di debito pubblico particolarmente invidiabile, sembrano un po' l'Italia, cioè hanno fatto aumentare il debito pubblico dopo la crisi del 2008-2009, si sono attestate attorno al 110, con la crisi del 2020 l'hanno fatto salire al 125 e non è calante, anzi quello dell'Italia è meglio perché comunque l'andamento degli ultimi due anni è calante, loro ormai sono stabili al 130% e per poter aumentare il livello di indebitamento dello Stato il Parlamento americano deve approvare questo ulteriore indebitamento spostando il debt ceiling che è il tetto del debito in due parole, quindi vogliono andare oltre il 130% devono approvarlo in Parlamento e ci sta, mi chiedo perché non ce l'abbiamo anche noi, un meccanismo per il quale l'aumento del debito debba essere soggetto ad una particolare approvazione da parte ad esempio del Parlamento, perché come dice Stanley il vero problema, sì, non è tanto l'aumentare dal 130 al 135% il debito, il problema è che l'eccesso di spesa pubblica da parte del governo manderà in bancarotta le future generazioni e attacca anche la politica fiscale degli ultimi dieci anni che dice è stato come guardare un film horror proprio per via dell'eccesso di spesa pubblica da parte del governo americano che con fenomeni come l'assegno che ricevevano gli americani durante la pandemia, quindi metà del 2020 e tutto il 2021, che di fatto li ha riempiti di soldi di non so quanti trilioni di dollari. Quando siamo usciti dalla pandemia tutti gli americani erano pieni di soldi, non avevano speso perché in lockdown non si spendeva, sono tutti andati a spendere contemporaneamente, di conseguenza i prezzi di tutto sono andati alle stelle. Il problema del debito americano e di alzare l'indebitamento non è trascurabile. Il numero uno del tesoro americano Janet Yellen ha recentemente comunicato che il governo se non viene approvato un ulteriore indebitamento potrebbe finire i soldi a partire dal primo di giugno, cioè tra un mese. Ed è comprensibile che queste notizie non fanno particolarmente piacere ai mercati e questo ha fatto esplodere i credit default swap sui titoli di Stato americani. Credit default swap sono appunto le assicurazioni sul fallimento di un debito, come ad esempio un treasury americano. Sono letteralmente esplose nell'ultimo periodo e se c'è un particolare stress associato al debito pubblico americano che cosa aspettarsi dal dollaro? Non sicuramente che si rafforzi. Questo è un ulteriore elemento che conferma, giustifica, potremmo dire, la tesi speculativa di Stalin Drunker Miller, quindi un'ulteriore ragione dell'indebolimento potenziale del dollaro nei prossimi mesi. Se dopo aver parlato più volte di debito pubblico italiano su questo canale vuoi un approfondimento sulla solidità del debito pubblico americano e sui rischi davvero di default dello Stato americano? Fammelo sapere, scrivimi falliranno gli Stati Uniti punto di domanda e se vediamo che l'argomento è di interesse faremo un approfondimento. Se vuoi scaricare il pdf di questo video clicca il pulsante qui in alto. Se vuoi approfondire quale sarebbe l'alternativa al dollaro che stanno studiando i paesi emergenti guarda il video qui in basso alla tua destra. Se questo video ti ha dato valore clicca mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video. Ciao!